ragazzi buona giornata da amici però oggi vi presento un altro canale che l'ho conosciuto praticamente ieri si chiama come vedete su youtube christian trattino basso 11 e guardate come è scritto 84 iscritti vi faccio questo video perché comunque io lo dovevo perché mi ha anche fatto uno shorts dove mi ha sponsorizzato e quindi lo ringrazio molto vedete il canale il canale vi faccio vedere da quando è operativo da dicembre 2021 lui comunque ha altri canali è come cri banana e giusi gandossi quindi neanche altri due quindi questo è il primo canale che vi faccio vedere poi vi faccio vedere che secondo guardate i video che fa è un amico di svideogame avete visto che ha sponsorizzato anche un altro canale che poi presenterò dopo video molto carini e quindi non solo giocare videogiochi quindi passate da lui ragazzi ve lo consiglio perché non gioca solo a forna e gioca stambul guys ma fa video anche molto interessanti guardate guardate quanti quanti video ha fatto vi faccio vedere di shorts lo ringrazio ancora che mi ha sponsorizzato questo è il nome del suo cane su primo canale su youtube cristiano 11 84 ve lo consiglio iscrivetevi ma se vi iscrivete ovviamente attivate la campanellina e questo è il suo secondo canale che è cri banana 42 iscritti anche qua guardate i video che porta questi sono gli shirt e questi sono i video è molto molto simpatici alcuni gli ho dato un'occhiata mi fa morire da ridare proprio simpatico questo questi sono tutti i suoi video e questo è il nome del suo terzo canale giusi candorsi e quindi vi faccio rivedere nuovamente questo secondo canale comunque cri banana 42 iscritti quindi seguite entrambi i canali ragazzi attivate la campanellina e ovviamente visitate il suo canale è un mio amico da pochissimo praticamente da ieri ma ve lo consiglio ragazzi una buona giornata da corrido allenato micro hey guys